Si è tornata ieri la tradizionale festa dell'albero, abbinato anche alla festa della patata. Da molti anni il gruppo micologico organizza in collaborazione con le scuole elementari di Piario, le scuole materne, il centro di urno disabili di Groppino, l'amministrazione comunale, questa bellissima festa. Ieri poi oltretutto è una giornata stupenda, non dico primaverile, ma quasi semi-estiva, perciò ci ha favorito anche nella manifestazione. Ci sono state anche le guardie ecologiche e volo forestali che partecipano tutti gli anni, quest'anno purtroppo mancava un nostro socio, una guardia ecologica, Piero Borlini, e un altro socio anche dal gruppo micologico Mario Ragrenzi, che collaboravano attivamente alla manifestazione. Dico ben riuscita perché anche i ragazzi delle scuole hanno portato dei cartelloni, hanno recitato delle poesie, perciò c'è una bella collaborazione tra scuole elementari materne e il centro di urno disabili di Groppino. Dicono buona collaborazione perché oltretutto i ragazzi delle scuole settimanalmente partecipano con dei laboratori presso appunto il centro che poi sfocia con dei lavori che vengono esposti alla mostra del fungo. Quest'anno siamo alla 35esima mostra, hanno già preparato dei bei cartelloni, perciò siamo già anche in fase di preparazione alla nostra mostra. Ritornando alla festa della patata e dell'albero, dicono ben riuscita, abbiamo piantumato quattro tipi di alberi da frutto che vanno ad arricchire il bröl del centro di urno disabili, in più abbiamo seminato le patate che poi raccoglieremo in autunno con una tradizionale festa. Perciò devo dire un grazie a chi ha collaborato e chi ha partecipato e arrivederci a quest'autunno per la raccolta delle patate.